Heidi Baci lascia il Grande Fratello! Cosa è successo? Nella puntata del 16 ottobre del Grande Fratello 2023, il pubblico ha assistito a un evento che ha scosso la casa, l'abbandono di Heidi Baci, una delle concorrenti più seguite del reality. La decisione di Heidi è stata presa in seguito a un incontro con il padre, Genty, avvenuto in diretta. Durante la puntata, Genty è entrato nella casa per parlare con sua figlia. L'uomo si è detto deluso dal comportamento di Heidi per la relazione instaurata con Massimiliano Varrese, un altro concorrente del reality, più grande di lui. Io e la mamma siamo devastati, hai alzato questo polverone con un uomo più vecchio di me. È stato come un pugnale al cuore, ha dichiarato Genty. Genty ha poi ribadito l'intenzione di portare via sua figlia dal gioco, sussurrandole qualcosa all'orecchio in albanese prima di lasciare il programma. Cuore di papà, se non stai bene, puoi uscire con me stasera. Queste parole hanno avuto un forte impatto su Heidi, che è rimasta molto scossa. Dopo l'incontro con il padre, Heidi ha deciso di interrompere la sua relazione con Massimiliano e di lasciare il grande fratello. La giovane ha abbandonato la casa nella notte, dopo la puntata, senza salutare i suoi coinquilini. La notizia dell'abbandono di Heidi è stata comunicata ai concorrenti da Letizia Petris, su richiesta degli autori. La scelta di Heidi ha spiazzato e destabilizzato tutti i concorrenti del grande fratello, che dopo l'incontro con il padre avevano cercato in tutti i modi di consolarla. L'uscita di scena di Heidi è stata confermata anche sui social tramite un comunicato ufficiale. Per motivi personali, Heidi Baci ha lasciato la casa del grande fratello. Dopo l'uscita di scena di Heidi, i concorrenti hanno reagito in malo modo. Tra le lacrime, Letizia e Valentina hanno preparato le sue cose per consegnarle agli addetti ai lavori. Letizia Petris ha poi comunicato l'abbandono di Heidi a Massimiliano Varrese. L'abbandono di Heidi al grande fratello ha scosso i concorrenti del reality e ha sollevato diverse questioni legate al patriarcato e al ruolo delle donne nella società. Questo evento ha dimostrato come le parole possano avere un peso enorme e influenzare le decisioni di una persona. In conclusione, l'abbandono di Heidi Baci dal grande fratello 2023 è stato un evento che ha scosso la casa e il pubblico. La decisione della giovane, presa in seguito all'incontro con il padre, ha sollevato diverse questioni e ha lasciato un segno indelebile nel corso del reality.